Bene, ritorniamo insieme con un nuovo collegamento. Sono davvero felice di avere con noi il direttore della Rete dei Comuni Sostenibili, Giovanni Gostoli. Buongiorno direttore, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Allora, siamo felicissimi della sua disponibilità, la sappiamo presissimo dai tanti impegni per cui cercheremo di essere brevi. Intanto partiamo dai fondamentali. Che cos'è e a cosa serve la Rete dei Comuni Sostenibili? La Rete dei Comuni Sostenibili è sostanzialmente uno strumento per migliorare i comuni. Noi siamo un'associazione nazionale che è nata nel 2021 e che già oggi, in solo tre anni, ha oltre 120 aderenti in tutta Italia. Siamo già oggi, non solo in Italia, ma in Europa, la realtà più grande di comuni, città metropolitane e province che si dedicano allo sviluppo sostenibile attraverso un monitoraggio delle politiche locali di sostenibilità. L'associazione è aperta all'adesione di tutti i comuni, di qualsiasi dimensione, grandi e piccoli e di qualsiasi colore politico. Già oggi all'interno della rete fanno parte realtà di tutti i colori politici, perché Agenda 2030 ha tutti i colori della politica, appartiene a tutto, sono grandi obiettivi che dovrebbero appartenere a tutti. E noi sostanzialmente proviamo, con il nostro progetto, ad accompagnare i comuni, le città, le province e le città metropolitane nella messa a terra dei grandi obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Ecco, quindi non solo monitoraggio, ma anche supporto. Esatto. Noi proviamo a passare da una sostenibilità predicata a una sostenibilità praticata nelle comunità locali. Al Comune offriamo un rapporto di sostenibilità annuale che è fatto su un monitoraggio di 100 indicatori per i comuni capoluogo, 80 per i comuni non capoluogo, 50 sul livello provinciale e ogni indicatore è collegato a un grande obiettivo di Agenda 2030 e di uno sviluppo sostenibile inteso non solo in senso ambientale, ma anche economico, sociale e istituzionale e riguardano questioni concrete che interessano la vita delle comunità locali, dall'efficientamento energetico degli edifici alle piste ciclabili, ai progetti di lotta allo spreco alimentare, al cibo bio nelle messe scolastiche, al consiglio comunale dei ragazzi, a tutta una serie di iniziative riguardanti l'energia, la mobilità e quant'altro. Quindi cose concrete su cui il sindaco, la giunta e i comuni con le proprie scelte possono andare a determinare il miglioramento delle performance. Noi vogliamo dare un contributo dal basso attraverso il protagonismo dei comuni e delle comunità locali al raggiungimento dei grandi obiettivi di Agenda 2030. E Dio solo sa quanto ce ne sia bisogno, è assolutamente meritevole l'impegno dal basso di supportare questo tipo di cambiamento. Come si fa ad entrare e fa parte della rete? Sì, basta una delibera di giunta, di adesione della giunta comunale, in cui la giunta si impegna a due cose principalmente. La prima a farsi monitorare attraverso questi indicatori. Noi vogliamo trasmettere anche alla pubblica amministrazione la cultura del dato nel governo locale che aiuta da un lato ad avere consapevolezza di quello che è la situazione e allo stesso tempo agire. Ma aiuta anche a dare una trasparenza nei confronti della comunità locale rispetto a quelle che sono le situazioni rispetto ai diversi temi. Quindi da un lato c'è l'impegno da parte del Comune a farsi monitorare attraverso gli indicatori locali e dall'altra a darsi anche degli obiettivi di miglioramento delle performance degli indicatori e quindi mettere in campo azioni e progetti concreti per farlo. Ovviamente come associazione offriamo tutto il supporto dalla formazione alla comunicazione con tanti strumenti anche per sostenere quello che è un grande sforzo ed è prezioso perché per poter vincere la sfida dello sviluppo sostenibile è fondamentale il protagonismo delle comunità locali. Direttore, tra l'altro una coincidenza non voluta ma molto assolutamente piacevole ci avvicina ulteriormente oggi perché Padre Pio TV, che è un emittente nazionale, trasmette da San Giovanni Rotondo, la città di Padre Pio che è entrata da pochissimo nella rete. Lo abbiamo appreso dai vostri canali social che abbiamo appunto in questi giorni avuto il piacere di riscontrare questo benvenuto che vediamo adesso e che abbiamo anche condiviso. Al momento non vorrei che l'avesse già citato il numero di comuni, di città che fanno parte della rete e quindi che sia stata una mia distrazione non averlo sentito il dato, ecco in quel caso richiederei di ripetercelo, quanti comuni fanno già parte della rete? Allora in solo i tre anni di cui il primo anno l'attività era molto sperimentale e abbiamo lavorato fianco a fianco con l'ASBIS che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile che ha contribuito alla creazione del nostro set di indicatori, in questi primi tre anni hanno aderito già 120 realtà in tutta Italia, quasi 120 realtà, abbiamo oltre 300 manifestazioni di interesse di comuni e di amministrazioni comunali che entreranno a far parte della nostra associazione e l'ultimo come si diceva è stato proprio San Giovanni Rotondo con cui siamo davvero contenti di poter iniziare a collaborare e la Puglia è tra gli aderenti alla rete dei comuni sostenibili la regione che in questo momento vanta più aderenti, inoltre dalla Puglia è partita proprio l'idea di allargare la nostra associazione perché noi nasciamo con l'associazione di comuni e città poi grazie al sindaco di Mesagne, presidente della provincia di Brindisi, ci è stato chiesto in qualche modo di cambiare il nostro statuto e di consentire l'adesione anche a province e città metropolitane e così abbiamo fatto. Le prime due province sono state appunto quello di Brindisi e di Foggia quindi sono proprio pugliesi e abbiamo tanti comuni, gli ultimi aderenti della Puglia sono state anche Castellaneta, Peschici, Carpino, ma abbiamo insomma tante realtà da Martina Franca a Lecce allo stesso comune di Foggia con cui stiamo facendo un bel lavoro, un bel lavoro che in qualche modo da anche un modo anche per fare rete è fondamentale. Al di là dell'attività progettuale il nostro obiettivo è anche quello di mettere a sistema e mettere in circolo le tante buone pratiche che ci sono nei comuni che talvolta non fanno notizie ma che possono diventare il valore aggiunto per un'altra amministrazione perché talvolta sono replicabili. E proprio su questo aspetto quest'anno abbiamo lanciato una nuova iniziativa editoriale che vede già protagonista la Puglia che il prossimo anno vedrà, protagonista anche San Giovanni Rotondo, che è la prima edizione della Guida dei Comuni Sostenibili Italiani. Al di là dell'attività progettuale noi abbiamo pubblicato quest'anno come prima edizione una guida dove sono presenti già quasi 100 comuni, ogni comune ha 4 pagine dedicate per raccontare un turismo più sostenibile, responsabile, accessibile, inclusivo e anche condividere le tante buone pratiche che vengono realizzate a livello locale. E proprio in questi giorni stiamo aprendo la nuova edizione 2025. Ottimo, davvero ottime notizie, notizie importanti perché poi questo cambiamento lo possiamo realizzare davvero solo se facciamo tutti la nostra parte, per cui la rete dei comuni sostenibili gioca davvero un ruolo di primaria importanza. Mentre chiacchieravamo abbiamo visto anche il sito ufficiale, è molto bello, io l'ho navigato anche nei giorni precedenti a questa conversazione, questa è la pagina Facebook, il sito ufficiale della rete dei comuni sostenibili porta in evidenza la notizia della vostra partecipazione ad Ecomondo, questo importante chermesse che avrà luogo nei primi giorni di novembre. Direttore, quasi quasi sarei lì, ecco il vostro sito, sarei lì per strapparle un'altra piccola promessa, quella magari di tornare a collegarci per sapere che cosa succede ad Ecomondo tra poco più di una settimana. Molto volentieri, noi partecipiamo per la prima volta con uno spazio nostro fisico insieme a Leganet, che è una società di servizi proprio a Ecomondo, che è il network uno dei più grandi, insomma sul tema green e sostenibilità, ci saremo per tutte le giornate dal 5 all'8 novembre a Rimini e l'8 novembre nel pomeriggio faremo nella giornata conclusiva anche un'iniziativa di presentazione alla rete. Sono davvero contento e sono grato per questo collegamento, ma in generale per l'attenzione che la vostra emittente dà ai temi della sostenibilità, e non poteva essere altrimenti perché Agenda 2030 nasce ed è stata sottoscritta nel 2015 da oltre 190 paesi e nello stesso anno è uscita l'enciclica di Papa Francesco che per tanti di noi, per tanti amministratori, rappresenta davvero un punto di riferimento, in cui sostanzialmente è stato un appello che ha rafforzato e che spinge i governi nazionali e locali a prendersi cura sostanzialmente nel mondo circostante. Come si diceva c'è bisogno dell'impegno di ciascuno perché tante piccole azioni dal basso, moltiplicati per tante persone, tanti comuni, possono davvero fare la differenza. E forse questo è il nostro modo di diventare artigiani e anche costruttori della casa comune, come ha invitato più volte, in particolare Assisi, a fare Papa Francesco. Bene, dunque siamo perfettamente allineati, non è un caso che il sottotitolo del programma, la regola della sostenibilità, sia proprio da Francesco a Francesco, perché questo amore per il creato ci viene direttamente da San Francesco d'Assisi e Papa Francesco è una delle voci attualmente, una delle voci più autorevoli in difesa della nostra casa comune appunto. Direttore, allora che dire, io la ringrazio anche per la disponibilità a tornare a collegarci, lo faremo quindi fra due settimane a consuntivo sostanzialmente di Ecomondo, oppure se riusciremo a trovare un modo per sentirci anche dai padiglioni della fiera, perché no, sarà un piacere farlo anche direttamente da lì. Abbiamo visto nella grafica presente sul sito i giorni, non solo i giorni durante i quali si svolge il festival, ma anche il padiglione a cui poter arrivare per trovare il presidente Giovanni Gostoli, direttore della rete dei comuni sostenibili e i suoi collaboratori. Lo rivediamo insieme dal 5 all'8 novembre a Rimini, padiglione C4, stand 306A. Direttore, grazie davvero di cuore per essere stato con noi, quindi arrivederci a presto. Grazie a voi davvero, buon lavoro. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Prima di restituire la linea alla regia vi anticipo che cederò lo studio al rientro dalla pubblicità ai cari amici della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo. Oggi Maria Stella Alemanno e Giuseppe D'Addetta dialogano con Annarita Lorusso, referente della comunità Laudato Si di Roma 2. Per cui restate con noi.